Grazie ad Andrea Arcidiacono, grazie a tutti e a tutte voi, intanto benvenuti e benvenute al Politecnico di Milano, mio benvenuto personale anche come direttore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani che ospita questa iniziativa, che ritengo molto importante. Io vorrei semplicemente dire due parole sulle ragioni per le quali da un punto di vista di un soggetto come il mio Dipartimento che è un soggetto di ricerca, un soggetto accademico, una mattinata e una giornata come questa sono significative, sono rilevanti. Questo è un tema di ricerca e lo è da molti punti di vista, da prospettive differenti, io ne segnalo almeno tre che intrecciano poi molti percorsi di ricerca che riguardano i colleghi e le colleghe che ha già citato il professor Arcidiacono che lavorano nel CRCS, ma anche tanti altri colleghi e colleghe del Dipartimento. Il primo aspetto è che il tema che voi affrontate oggi, anche alcune delle sessioni svilupperanno questo argomento, richiede ancora conoscenza analitica. Molto si è capito sull'aspetto della misura, di come costruire delle misurazioni efficaci, pertinenti, adatte anche alla diversificazione dei contesti del consumo di suolo. Quindi c'è una dimensione analitica molto molto importante e significativa, che fra l'altro per noi è rilevante perché noi siamo un Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, in cui ci sono architetti, urbanisti, eccetera, eccetera, ma è un terreno molto forte di dialogo con altri settori disciplinari, che sono connessi alle scienze della Terra, alle scienze naturali, anche a scienze dure, con cui per noi è molto importante dialogare. Questo quindi è un primo terreno che ritengo abbia ancora qualcosa da dire, da sviluppare, che richiede capacità analitiche appunto molto sofisticate e sul quale penso che oggi verranno dette cose significative. Ce n'è un secondo, che è quello che ha a che vedere con il rapporto molto stretto fra le questioni, diciamo, del consumo di suolo e i temi più generali del Governo del territorio. Se ne parlerà in chiavi diverse oggi, sia in relazione al rapporto fra il tema del consumo di suolo e gli strumenti di piano, per esempio la dimensione paesaggistica, che è molto importante. Il nostro Dipartimento, in particolare il professor Arcidiacono, sta collaborando con Regione Lombardia proprio sul tema della pianificazione paesistica, ma accanto a questo c'è poi la dimensione, diciamo, degli specifici dispositivi e strumenti di policy connessi alla, diciamo, controllo e regolazione del consumo di suolo, che come sapete sono un tema particolarmente difficile e delicato. Ma anche la questione dei servizi ecosistemici può essere vista in questa chiave. Ne discuterete oggi pomeriggio. Si tratta di un ambito nel quale c'è una connessione molto stretta fra una reinterpretazione del tema del consumo di suolo attraverso la chiave dei servizi ecosistemici e una riflessione sul progetto di territorio. E secondo me questo è un punto molto importante per chi, come noi, si occupa non solamente della dimensione, diciamo, di pianificazione urbanistica e territoriale, ma anche di progettazione concreta, di trasformazioni concrete del suolo e del paesaggio. C'è un terzo aspetto che ritengo importante dal punto di vista della ricerca è che la questione del consumo di suolo mette in gioco una riflessione più generale sui modelli di sviluppo. E questo ha a che vedere, naturalmente, con un insieme, una categoria molto ampia di riflessioni che anche nel nostro Dipartimento si stanno portando avanti, che io direi in modo un po' sloganistico così, la questione dello sviluppo nel nostro paese, ma più in generale nei paesi occidentali e probabilmente a scala globale, oggi, a valle di una crisi che è stata molto lunga e che ancora persiste e che non è una crisi congiunturale, ma una crisi strutturale, ci indica il terreno di un modello di sviluppo che sia disaccoppiato dalla crescita insediativa. È molto difficile pensare questo, perché veniamo da un secolo lungo nel quale sviluppo e crescita insediativa e quindi consumo di suolo sono sempre stati accoppiati. Pensare di disaccoppiare sviluppo e crescita insediativa vuol dire ragionare anche sulle economie che sono connesse alla riflessione che, per esempio, oggi svilupperete, al modo in cui queste mettono in campo prospettive, diciamo, appunto, di sviluppo alternative a quella tradizionale. Come vedete, si tratta di un campo di ricerche molto ampio, molto ricco, in cui il CRCS, che, diciamo, è a sua volta una struttura collettiva, ha dato un contributo molto importante, ma ritengo anche che queste riflessioni nutrano altri pezzi della ricerca e del Dipartimento e più complessivamente della comunità accademica. Aggiungo un ultimo punto. Mi sembra di poter dire che la cosa interessante, tra le altre, della mattinata e della giornata di oggi, è che, diciamo, è la manifestazione, come già è stato anche in occasioni passate, ma oggi ancora di più, di una sorta di comunità di pratiche che si è costituita intorno a questo tema. Questo è un evento copromosso da una rete molto ampia di attori, attori anche molto diversi fra di loro, istituzioni, istituzioni territoriali, naturalmente, la Regione con i suoi enti strumentali, eccetera, eccetera, enti di ricerca, accademici e non accademici, e anche questo è molto importante. La collaborazione con importanti istituti di ricerca, non strettamente accademici, è un punto di forza di questo percorso. soggetti della cittadinanza attiva, soggetti, diciamo, protagonisti, no, come attori sociali collettivi di questo dibattito, anche politico su questi temi, come Legambiente, ma anche soggetti come Fondazione Cariplo, che rappresentano un interlocutore importante per la fattibilità di progetti concreti su questi temi. Beh, questa rete, questa rete di attori, è secondo me uno dei valori più grandi che, diciamo, l'azione che si è svolta in questi anni, ha messo in campo. E ritengo che intorno a questa rete, intorno a questa comunità di pratiche, si possa provare anche a, come già è stato in passato, e come sempre di più deve essere, a costruire un'agenda pubblica collettiva, cioè a porre questo problema come un problema pubblico, collettivo, rilevante per il nostro Paese. Questo è ancora in larga parte da fare, Pietro Mezzi probabilmente ce lo dirà dal punto di vista della città metropolitana, ma poi, insomma, è un tema che riguarda moltissimi livelli di governo istituzionali, da quello europeo a quello nazionale, a quelli regionali, a quelli locali, e sono però convinto che iniziative come questa e i materiali, i rapporti che oggi vengono presentati, siano tanto più rilevanti, quanto più sono in grado di mutare, modificare, cambiare anche la natura dell'agenda politica, locale e nazionale. Grazie. Grazie. Grazie Gabriele Pasqui. Lascerei la parola a Barbara Meggetto, Presidente di Lega Ambiente Lombardia.